Grazie a tutti. La reazione della squadra di Guido Di Fabio non accenna a tardare, Lorenzo Pizzi non ci pensa su due volte, il destro volante sferrato dall'esterno che sfila fuori dallo specchio della porta, Alessandro Gizzi praticamente dal cortile di casa tutti ad attendere lo spiovente. All'interno dell'area di rigore il capitano decide per la soluzione personale, va diretta in porta, rischia la frattura, la attraversa, poi Alessandro Pendenza è costretto ad abbandonare il terreno di gioco per il riacutizzarsi di un fastidio muscolare al suo posto. Bernardi inserisce Verrocchi che trova subito il modo per ripagare la fiducia, trova col radar. Romano Puglielli 2-0 prima dell'intervallo ma atteggiamento non esattamente propositivo per i nerostellati. Nella seconda frazione si adagia sul doppio vantaggio, Biagetti commette un intervento falloso, i danni di Daniele Moscone ma è sconsiderata. La reazione dell'attaccante, rosso diretto sventolato al suo indirizzo e doccia anticipata, può beneficiare dell'uomo in più il Martinsicuro che approfitta della leggerezza di Filippone che la scarabocchia. A ritroso, costretto Gheriamo a franare su Di Felice, c'è il tiro dagli 11 metri realizzato. Dal numero 9 Biancazzurro va a raccogliere gli applausi. A fine partita l'11 guidato da Di Fabio ma i tre punti, sono dei nerostellati. Per il Martinsicuro con il capitano Di Felice al rientro dopo sei mesi, bagnato con un gol. Sì, oggi peccato il risultato, però sono molto contento della prestazione della mia squadra. I ragazzi come ogni domenica danno tutto. Siamo riusciti a riaprire una partita e fino alla fine ci abbiamo provato a portare a casa il punto. Continuiamo così, testa bassa, lavoriamo e cerchiamo di fare il massimo. Allora, volevo ringraziare innanzitutto la mia famiglia che dopo l'infortunio che ha avuto mi è stata sempre vicino. Volevo ringraziare la società Martinsicurese che mi ha dato la possibilità di rivestire questa maglia a cui io sono molto legato. Ringrazio il professor Di Renzo, il professor Vallese e il dottor Di Massimo che mi hanno fatto sì che io tornassi a vivere queste emozioni. E non in ultimo gli allenatori e soprattutto il mister Guido Di Fabio che è un grandissimo uomo oltre che un grandissimo mister. Mister Bernardi, due vittorie in due partite per lei. Forse non è stato buonissimo l'approccio nel secondo tempo però con Martinsicuro. No, hai detto bene. Due vittorie fondamentali per la nostra classifica. Ovviamente abbiamo ancora le scorie di questi sette mesi che sono stati altalenanti con grandi difficoltà. Quindi i ragazzi devono ancora scrollarsi di dorso queste scorie negative. Però diciamo che l'approccio iniziale mi è piaciuto. I ragazzi hanno cercato di fare quello che avevo chiesto loro in settimana. Il risultato ci premia ma come hai detto bene tu il secondo tempo non mi è piaciuto. L'ho detto anche in panchina l'approccio. Siamo entrati i mosci quasi convinti di aver vinto la partita. E non è così perché il Martinsicuro ha dimostrato dall'inizio della partita di veramente di onorare il calcio, di dare tutto se stesso nei 90 minuti. Faccio i complimenti al mister, faccio i complimenti alla società e ai loro giocatori perché veramente è uno spot a favore del calcio, vederli giocare, vedere l'impegno che ci mettono nonostante la classifica li penalizzi così. Quindi io direi che dicendo anche questo voglio fare dei complimenti ai miei ragazzi perché hanno saputo tenere botta nonostante tantissime difficoltà che abbiamo incontrato in settimana.